velivolo precipita sulla sponda del cesano feriti pilota e passeggero nuovo ospedale l'incognita dei finanziamenti ai posti letto piano antenne individuati 35 luoghi in cui sorgeranno strade e marciapiedi comunali arrivano 90 milioni dalla regione alberi pericolosi e urgenza a potature le segnalazioni a rossini tv eccoci pronti con il nostro telegiornale buonasera benvenuti a tutti su rossini tv al nostro rossini news oggi è mercoledì 8 novembre apriamo questa edizione parlando di una notizia che arriva dal confine tra la provincia pesarese quella anconetana confine contrassegnato dal fiume cesano sul cui gretto è precipitato attorno a mezzogiorno un velivolo ultraleggero schiantatosi in un'area di folta vegetazione nella campagna di monterado sul posto sono intervenuti vigili del fuoco polizia locale carabinieri e ambulanza che hanno soccorso il pilota e il passeggero entrambi settantenni presenti a bordo uno dei due occupanti è uscito dai rottami in autonomia restando miracolosamente illeso riportando solo ferite lievi più grave invece il passeggero che è stato estratto dai soccorritori e trasportato in ospedale in elia ambulanza il velivolo è precipitato pochi minuti dopo il decollo avvenuto da monteporzio dall'avio superficie dell'avio club fano cesano si indaga sulle cause dell'incidente ed ora torniamo ad occuparci dei temi legati al nuovo ospedale di pesaro emersi nel consiglio comunale sulla sanità di lunedì scorso il consigliere regionale andrea biancani chiede chiarezza su come verranno reperiti e gestiti 460 posti letto previsti vediamo durante il consiglio comunale di pesaro la regione marchi con la presenza del presidente acquaroli dell'assessore saltamartini hanno ribadito che il nuovo ospedale di pesaro avrà 460 posti letto la domanda che mi sono posto immediatamente anche attraverso un'interrogazione che è stata discursa proprio in questi giorni in consiglio regionale è da dove arriveranno questi 460 posti letto ovvero circa 80 posti letto in più rispetto ad oggi solo per quanto riguarda l'ospedale di pesaro anche perché ricordo che quando parliamo di posti letto un posto letto vuol dire più risorse vuol dire più personale la domanda che mi sono fatto appunto è da dove arriveranno questi tre posti letto chiedendo proprio alla regione se arriveranno da un riequilibrio a livello provinciale in questo caso vorrebbe dire ridurre i posti letto all'ospedale di Fano di Urbino di Pergola o se ci sarà un riequilibrio a livello regionale cioè che questo personale e queste risorse arrivano da altre province dove ci sono come dire maggiori posti letto rispetto a quanto prevede la norma o addirittura se c'erano risorse in più per creare questi posti letto anche perché sarebbe molto grave se questi posti letto derivano dalle strutture di Fano Urbino e Pergola che vorrebbe dire la chiusura di alcuni reparti in queste strutture sanitarie ricordo quindi purtroppo che non c'è stata una risposta una risposta che ovviamente io mi attendevo anche perché tutte queste cose cioè quella che l'organizzazione delle nuove strutture o meglio delle strutture attualmente esistenti cioè quella di Pesero Fano Urbino e Pergola andrà chiarita all'interno dell'atto aziendale. Atto aziendale che appunto andrà ad affinire l'assetto dei vari presidi ospedalieri comprensivo della tipologia delle parti del numero di posti letto il personale e risorse e non vorrei che questo atto aziendale venga approvato dopo le elezioni del 2024 perché sicuramente con questo atto aziendale saranno necessarie delle scelte anche difficili per la politica che da quello che abbiamo sentito in aula in consiglio comunale verranno delegate completamente ai tecnici come dire quindi tutte quelle che sono le scelte difficili di riorganizzazione la politica cercherà di scaricarle sui tecnici ritengo questo fatto molto grave anche perché è la politica che ha promesso il mantenimento di tutti i reparti in tutte le strutture che oggi abbiamo nella provincia di pesa rubino ed ora cambiamo argomento perché è stato presentato oggi il calendario 2024 dei carabinieri che il comando di pesa rubino ha svelato in simultanea ai colleghi dell'arma del resto d'italia nell'occasione è stato fatto il punto su alcune situazioni di micro criminalità particolarmente attenzionate in questo periodo è giunto alla novantunesima edizione il calendario storico dell'arma dei carabinieri che oggi il comando di pesa rubino ha svelato in simultanea alla presentazione nazionale avvenuta a roma il calendario dedicato al tema i carabinieri e le comunità e si è avvalso del contributo grafico dello studio design pin in farina e dello scrittore massimo gramellini per la creazione dei testi di un calendario prodotto in un milione di copie diciamo il fil rouge appunto la nostra banda rossa caratteristica delle nostre delle nostre divise per la parte grafica per la parte diciamo così storica rappresentativa anche degli episodi che vengono raccontati da gramellini in parte cioè basati su storie vere ma logicamente romanzati un pochettino modificati diciamo per renderle anche un pochettino più accattivanti e la vicinanza di carabinieri alla comunità quindi carabinieri nella comunità e la stessa cosa viene ripresa anche nel calendario piccolino appunto vengono ripresi diciamo le nostre attività di pattuglia normali con i nostri mezzi i nostri militari in pattuglia nei piccoli borghi premiati diciamo da quello che sono i vari diciamo i borghi più belli d'italia i carabinieri di pesero e urbino sono ora pronti ad archiviare un 2023 che denota una provincia che si vuole mantenere tranquilla attraverso una costante azione di monitoraggio non è scevra da problematiche come possono essere problematiche giovanili ma che sono più o meno analoghi a da a simili province che noi abbiamo in tutta l'italia quindi come può essere micro criminalità oppure disagio giovanile problematiche di droga quelle ci sono sicuramente però non è una situazione drammatica o particolarmente eccessiva come problematica anzi per quel che riguarda in particolare i giovani come problematiche diciamo così che magari l'anno scorso erano c'erano stati degli episodi ad esempio interventi presso le scuole istituti scolastici in questo caso nell'ultimo periodo diciamo fatte le debite valutazioni non ci sono grosse problematiche emersi finora carabinieri dentro la comunità anche per quel che riguarda la prevenzione vanno in tal senso i risultati prodotti dagli incontri a tutela delle truffe agli anziani diciamo gli episodi appunto i tentativi di truffa agli anziani che sono stati fortunatamente scongiurati perché chi ha ricevuto le telefonate le diverse telefonate perché logicamente vanno a zone colpiscono cercano di colpire diverse zone i truffatori hanno ricevuto delle risposte diciamo preparate perché hanno fatto l'incontro con noi nelle chiese nelle scuole nelle parrocchie quindi questo è il senso della nostra esistenza sono stati individuati 35 luoghi sui quali dovrebbero sorgere altrettante torri di telefonia mobile nel territorio di pesaro un piano antenne che il comune ha presentato ieri sera condividendolo con i presidenti di quartiere le torri di telefonia mobile che andranno installate nel comune di pesaro hanno ora un piano revisionato aggiornato e regolamentato per i prossimi tre anni piano antenne che ieri il comune ha presentato attraverso un incontro telematico tenuto dall'assessora maria rosa conti e dai responsabili comunali mauro moretti e lara gia valsecchi referenti per urbanistica e inquinamento elettromagnetico il tutto assieme ai responsabili dello studio polab che hanno presentato un nuovo piano delle localizzazioni che sostituirà il precedente piano approvato nel 2019 e permetterà l'installazione degli impianti di telefonia mobile solo in determinate localizzazioni individuate sulla base di tre fattori lo studio del carico elettromagnetico i programmi di sviluppo che ogni gestore tenuto a presentare entro il 31 marzo di ogni anno e che individuano le aree proposte dai gestori e gli aspetti finalizzati a minimizzare quanto possibile l'impatto paesaggistico degli impianti sulla base di queste informazioni si è riuscito a ridurre dal centinaio di nuovi siti proposti inizio 2023 a circa 35 localizzazioni in aree pubbliche nelle quali i gestori dovranno installare i loro impianti nei prossimi anni localizzazioni ipotizzate che sono state trasmesse per concertazione anche ai quartieri al municipio di monte ciccardo al parco san bartolo e alla soprintendenza i 13 presidenti di quartiere hanno partecipato all'incontro e valuteranno eventuali suggerimenti iliad team vodafone win3 e fast web gestiranno dunque 35 nuovi impianti con localizzazioni al momento individuate nelle aree pubbliche peseresi più disparate dal porto al parco della pace dalla torraccia via solferino da muraglia candelara da case bruciate a santa veneranda da villa ceccolini a ginestreto il comune nell'occasione ha assicurato anche l'impegno a destinare risorse per il monitoraggio da svolgere assieme ad arpam del livello delle emissioni elettromagnetiche nel territorio dalla regione marche arrivano 90 milioni di euro a sostegno della messa in sicurezza di strade marciapiedi e ciclabili dei piccoli comuni tanti progetti finanziati anche nella nostra provincia di pesaro urbino la regione marche attraverso l'assessore francesco baldelli ha presentato ad orciano nel municipio di terre roveresche i vincitori dei bandi per contributi al miglioramento della rete stradale di marciapiedi di ciclabili o sottopassi nelle province di pesaro urbino e ancona presenti ad orciano gran parte dei sindaci e degli amministratori dei comuni coinvolti nel bando tanti quelli che ne beneficeranno nel peserese da tavuli alla strada orcianese passando per monbaroccio mercatale di sasso corvaro macerata feltra san lorenzo in campo isola del piano carpegna monte calvo e gabice mare a questi si aggiunge un contributo speciale per valorizzare il sito del monastero di fonte avellana i 90 milioni di interventi finanziati dalla regione marche con un intervento diretto del proprio bilancio che va a aiutare le nostre comunità cittadine migliora la qualità della vita nei nostri territori parliamo di strade di percorsi pedonali di sicurezza in senso lato di cui c'è tanto bisogno nei nostri territori di cui hanno tanto bisogno anche i bilanci comunali che non riescono ad affrontare queste tematiche questa è stata la scelta della giunta acquaroli che d'altronde è costituita da quattro ex sindaci su sette quindi è una giunta che conosce bene le problematiche dei territori a questo si aggiunge anche un sostegno alle province per l'accessibilità di luoghi culturali che sono emblema della nostra regione è uno di questi emblemi di queste bandiere sicuramente il monastero di fonte avellana che riceverà un contributo di 400 mila euro della regione cui si aggiungerà una compartecipazione della provincia perché questo luogo diventi veramente fruibile al turismo religioso e al turismo che accede questa nostra montagna il monte catria che ricordiamo è la più alta montagna che separa l'umbria e le marche nel territorio della provincia di peser urbino e dove si dice abbia soggiornato dante mi piace ricordare è arrivato anche giovanni paolo secondo nel millenario della fondazione di quel eremo quindi interventi molto importanti che hanno attivato in questi 30 mesi poco più di 30 mesi della giunta acquaroli investimenti sul territorio per 120 milioni di euro questo significa poi indirettamente anche sostenere l'economia di questi territori con tanti lavori pubblici messi in moto e messi a terra dalla giunta regionale del presidente acquaroli e la sicurezza delle strade passa anche attraverso la messa in sicurezza degli alberi che incombono sul loro transito vanno in questo senso alcune segnalazioni arrivate a rossini tv a pochi giorni dalla pericolosa allerta a vento che ha visto abbattersi decine di pianti sulle nostre strade dopo l'allerta vento conclusasi nei giorni scorsi con centinaia di interventi dei vigili del fuoco per rami e piante divelte e crollate sulla sede stradale per fortuna senza conseguenza sull'incolumità delle persone rossini tv accende le sue telecamere sulle segnalazioni dei telespettatori che indicano altre zone a rischio in tal senso è il caso della frazione pesarese di case bruciate dove l'urgenza di potatura è fra le più pressanti con il vento è caduto un ramo che c'erano dei ragazzi disabili è stato per un po che non li ha presi è andata bene ho fatto una segnalazione di venire su a vedere non ho avuto nessuna risposta come vedete ci sono tanti tanti rami e piante secche che devono essere potate se facciamo un percorso dall'inizio di case bruciate fino alla fine qua ci sono tante piante da abbattere e da potare e in più abbiamo un guard drive che è pietoso a parte che sta cadendo è tutto coperto dai rami che va ripulito tutto quest'anno sono passati una volta pulire ma una cosa superficiale niente di più io penso che non bisogna guardare solo nella città bisogna guardare un attimino anche fuori dalla città una richiesta d'attenzione sulle periferie e sui rischi delle zone collinari segnalazioni a rossini tv che riguardano anche analoghe problematiche su parte dell'ardizio dagli alberi che incombono sulla strada panoramica a quelli che insistono sul transito della statale su fosso sei ore proseguono i lavori per la realizzazione della palestra che a pantano andrà a completare il polo scolastico di via la marmora adiacente alla scuola brancati il sindaco ricci ha effettuato un sopralluogo al cantiere che prevede un intervento del valore di 3 milioni e 200 mila euro da completare entro maggio 2024 sarà un nuovo impianto sportivo certificato coni per competizioni agonistiche a servizio sia delle attività scolastiche che delle associazioni sportive del territorio una delegazione dello stato brasiliano di amapà ha fatto visita a pesaro accolta in prefettura dal prefetto emanuela saveria greco dall'assessore francesca franquellucci dal presidente del consiglio comunale marco perugini la visita di 12 rappresentanti del parlamento e dell'imprenditoria dello stato amazonica è stata promossa da cosmob centro tecnologico per il settore legno arredo per sviluppare potenziali partnership con il territorio basate su bio economia tecnologia e innovazione il bello dell'italia evento del corriere della sera che racconta arte storia e bellezze del bel paese fa tappa pesaro con l'iniziativa un paese che risuona l'appuntamento è per venerdì 10 novembre alle ore 17 al centro artivisive pescheria l'evento a cura di alessandro cannavò del corriere della sera aprirà un approfondimento del prestigioso quotidiano su pesaro capitale della cultura 2024 alla presenza degli interventi di tanti ospiti della politica della cultura della musica e dell'ambiente del nostro territorio prosegue il progetto cenerentola hashtag 25 percorso di divulgazione dei contenuti storici e artistici legati all'opera lirica del rossini opera festival nel 25esimo anniversario della sua messa in onda domani giovedì 9 novembre alle ore 21 al teatro rossini sarà eseguita una selezione di brani dell'opera da parte di giovani interpreti formati nell'accademia rossiniana alberto zedda nella collina petrianese di riceci andrà in scena sabato 11 novembre l'evento da riceci al cielo l'appuntamento è alle 20 e 30 alla panchina gigante di riceci per un'escursione sotto le stelle accompagnata da letture spunti storici e mitologici a cura dell'astrofilo leopoldo ilvo marzano l'appuntamento segue quello di sabato scorso riceci e i calanchi circa 80 persone guidate dalla guida ambientale romina angeli si sono avventurate alla scoperta della natura che circonda riceci in un percorso di due ore per conoscere da vicino la conformazione di queste colline e i rapaci che scelgono questi luoghi per nidificare un pomeriggio che si è concluso con il lancio di bombe di semi ovvero palline di argilla e terriccio contenenti diversi semi si tratta di una pratica arcaica ripresa in epoca moderna dal botanico giapponese masanobu fukuoka come forma di protesta contro l'urbanizzazione eccessiva tema che a riceci è di pressante attualità in seguito al discusso progetto della discarica ed ora cambiamo ancora argomento parliamo di un evento in questo caso non parliamo di natura parliamo di cinema perché domani 9 novembre alle ore 18 al cinema multiplex giometti di pesaro verrà proiettato in prima nazionale ancora volano le farfalle lungometraggio del regista joseph nenci ispirato alla storia della pesarese giorgia righi che da anni combatte con tenacia e positività con una malattia rara come la tassia di fredrick il film è stato girato nella provincia di pesaro urbino e sarà presentato domani alla presenza del cast al gran completo saranno presenti anche le nostre telecamere per realizzare uno speciale che trasmetteremo martedì 14 novembre alle ore 21 e 20 e allora non mancate a questo bell'appuntamento per domani sera intanto restate con noi su rossini tv perché abbiamo tante cose da raccontarvi allora subito dopo questa edizione del nostro telegiornale quindi alle 20 e 10 troverete una nuova puntata della finanza e per tutti una pillola di educazione finanziaria e lo faremo questa sera con rita corraducci che è consulente finanziario di banca ui di ba e poi alle 21 e 20 restate con noi su rossini tv perché c'è un meraviglioso documentario realizzato da giorgio ricci la critica d'arte grazie a calegari racconta ciro pavisa che è stato un pittore italiano noto per aver dipinto nature morte paesaggi e soggetti sacri nelle marche nacque al passo del beato santi di monbaroccio a 100 metri dal santuario appunto del beato santi ma il suo legame con questo paese fu sempre veramente molto stretto tant'è che negli ultimi anni della sua attività artistica si firmava proprio ciro pavisa da monbaroccio e poi vi ricordiamo domani vi aspetto puntuali nella nostra rassegna stampa alle 7 20 replica alle 8 20 sul canale 80 in diretta anche sulla nostra pagina facebook e poi vi ricordiamo che domani torna una puntata grandissima insomma non potete perderla perché con noi ci sarà per la prima volta in assoluto il coach della carpegna prosciutto basket maurizio buscaglia che chiaramente farà un'analisi della partita scorsa ma soprattutto si parlerà della prossima partita in casa che sarà domenica alla vitre frigo arena alle 18 e 15 ci sarà in studio anche matteo fattori e chiaramente potete partecipare perché avrete la possibilità se scrivete messaggio domande ai nostri ospiti avrete la possibilità di ricevere i biglietti gratis per la prossima partita e allora adesso vediamo come sarà il tempo per i prossimi giorni io vi auguro una buona serata